Io intervengo perché effettivamente ho saltato di rileggere un pezzettino sempre del corpo della delibera, dove dice Mancata efficacia della imposta di soggiorno. Infatti, sebbene istituita per l'anno 2018, l'approvazione della tariffa, oltre i termini di legge, ha impedito l'effettivo gettito nelle casse comunali. Manco per sbaglio riuscite a seccare la data, a rispettare le norme. Quella volta noi che non eravamo d'accordo su quel metodo, no, perché servono i soldi? Vi dovreste vergognare. Guardi, io veramente dico che questa è veramente una situazione inverosimile. Abbiamo bisogno di soldi, istituiamo delle tariffe, ma siccome sbagliamo i termini, quei soldi non li possiamo incassare. Voi parlate di amare questa città, amare i cittadini, eccetera, eccetera. C'è un solo modo per dimostrarlo. Dovete lasciare e tornare alle elezioni. Per cui il nostro voto ovviamente è no. Grazie, consigliere Fiore. Interviene il consigliere Talonna per dichiarazione di voto. Sì, grazie presidente. Buonasera alla giunta presente e ai colleghi consiglieri. Io credo che questa sera sia conclamata una problematica di questo comune. Io penso ci sia davvero qualche difficoltà di comprensione di che cosa intendiamo noi per democrazia. Io ho sottolineato più volte che questa amministrazione comunale è stata eletta con un risultato plebiscitario, non importante, plebiscitario, assume, si dovrà assumere tutte le responsabilità delle proprie decisioni, ma stiamo parlando di un'amministrazione che è stata eletta democraticamente. Stiamo parlando di un'amministrazione che ha dimostrato avere gli elettori dalla propria parte, mi sento di non condividere la fiducia prestata dagli elettori, ma stiamo parlando di un sindaco che è stato eletto, di una maggioranza che ha tutte le carte in regola per amministrare questa città. Allora, o siamo democratici sempre, a me non è mai piaciuta la democrazia a convenienza. Come ho dichiarato in passato, per certi versi addirittura prima che si facesse ricorso al piano di rientro, cercai nei limiti di quello che un consigliere all'opposizione può fare, di persuadere qualcuno o di scambiare qualche opinione con qualche consigliere e qualche assessore, qualche consigliere di maggioranza, circa la maggiore opportunità di puntare su un piano di riequilibrio piuttosto che fare questa farsa del piano di rientro che dal mio punto di vista non era assolutamente fattibile. Fatta questa premessa, visto che stiamo parlando di dichiarazioni di voto, io l'ho letta la fascetta che ci è stata consegnata e in base a quello che leggo viene fatta una proposta, quindi diciamo un indirizzo, di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario. Cercherò di essere il più chiaro possibile per prevenire eventuali fraintendimenti, che comunque ci saranno. Per una questione di evidente coerenza con quanto ho già detto in passato, io voterò favorevolmente a questo a capo, il che non comporta assolutamente un voto favorevole a quello che scaturirà da questo piano, ma ritengo che questa amministrazione debba assumersi le sue responsabilità, se le responsabilità porteranno a un piano di riequilibrio inefficace, il mio auspicio è che alle prossime elezioni si presenti qualche forza politica che riesca ad ottenere un consenso maggiore di questa coalizione e che quando verrà incaricata dal popolo sovrano, perché è il popolo che in un paese democratico dovrebbe decidere da chi vuole essere governato, a quel punto ci sarà tutto il tempo di sedersi a tavolino con la Corte dei Conti e con gli enti responsabili di ciò e rielaborare il piano pluriennale di riequilibrio sulla base delle linee strategiche e delle idee che questa nuova maggioranza politica riterrà più opportune. Di conseguenza, Presidente, annuncio voto favorevole e la ringrazio. Grazie, Consigliere Taronna. Ci sono altri che devono intervenire? No, quindi passiamo al voto del provvedimento. Riccardo Angelo, Balzamo Vincenzo, assente. Vi sceglie Rosalia? No, Campo Maria Grazia, Clemente Liana, Conoscitori Antonio, assente. D'Ambrosio Damiano, De Luca Alfredo, della Patria Antonietta, Fiore Giovanni, Giosomino Arturo, Jacopiello Michele, La Torre Michele, assente. Magno Italo, Mastro Luca Michela, Ogni Santi Giovanni, Fallumbo Libero, Ritucci Massimiliano, Romani Cristiano, assente. Salve Miniangelo, assente. Taronna Leonardo, Tomaiolo Francesco, Totaro Mario, Trigiani Lucia, Valentino Salvatore, Con voti favorevoli 14, contrari 5 e 6 assenti. Dobbiamo votarla perché già ho visto che è uscito qualcuno. Va bene, quindi votiamo il medaglio di attività, ma è uscito Magno, quindi rifaccia la pettina. No, va bene, è inutile, si sbanca Magno. Si è uscito solo Magno, quindi posso andare a 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 andare. Va bene, chi è a favore? Chi è contrario? Proporiboli 14, contrari 4. Contrari 1, 2, 3, 4. Assenti 7. Quindi l'argomento è approvato. Ora proporrei, prego, 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 consigliere De Lucco. Sì, di prassi facciamo questa cosa che, quindi, esatto, l'accorpamento dei punti dei debiti fuori bilancio. Qual è? Chiedovenia. Mi taccio. Lo dico adesso per dopo, sì, avevo la stanchezza. Allora, 5, 6, 7, 8, invece di farlo come al solito, con un'unica relazione, un'unica discussione, voti così. Ha anticipato già quello che avremmo detto dopo. Certo, chiedo scusa. Ad ogni buon conto, passiamo ora all'accapo numero 4, approvazione schema di convenzione per il servizio di tesoreria comunale. Prego, Assessora. Siamo per letto, quindi, se sull'argomento qualcuno deve intervenire, nessuno. Quindi, la parola al consigliere Fiore. E' solo un piccolo appunto, perché, a quanto posso capire, vanno deserte le gare. E uno si chiede, forse, perché vanno deserte? È possibile che la banca non ha interesse? E io ritengo che è chiaro il motivo. Se loro sanno che, dovendo fare un servizio di anticipazione di tesoreria, la domanda è, se l'ente dovesse dichiarare default, questi soldi si devono mettere in fila? Eh. E io mica ho detto al comune di Manfredonia, vanno deserte e dalle altre parti. Io sto dicendo che questo è un problema. Non a caso avete allegato una considerazione, una nota che questo dice dell'ABI, che si sta interessando. E io quello sto dicendo, mica sto dicendo Manfredonia è brutto e tutti gli altri sono belli. Sto dicendo che questo è un problema. E che quindi sono curioso di capire chi saranno coloro i quali si avvicineranno a questo bando. Questa è considerata la situazione che noi abbiamo. Era un dubbio, probabilmente, che nessuno sarà in grado di... Però riparisco, anche dalla documentazione che avete allegato, il problema, per quanto sia in tutta Italia, io penso al mio. Nel mio comune c'è questo problema. Per cui mi auguro che ci sia qualche istituto bancario che, bontà sua, vorrà comunque partecipare alla gara. Grazie consigliere Fiore. Altri interventi non ce ne sono, dichiarazioni di voto credo neanche. Quindi votiamo il provvedimento per appello nominato. Riccardi Angelo, Balzamo Vincenzo, Assente, Bicella Rosalia, Campo Maria Grazia, Clemente Liana, Conoscitore Antonio, D'Ambrosio Damiano, De Luca Alfredo, Della Patria Antonietta, Fiore Giovanni, Giosumino Arturo, Jacopiello Michele, La Torre Michele, Assente, Magno Italo, Assente, Mastro Luca Michela, Ogni Santi Giovanni, Palumbo Libero, Ritucci Massimiliano, Romani Cristiano, Assente, Salve Minangelo, Assente, Taronna Leonardo, Tomaiolo Francesco, Totaro Mario, Assente, Trigiani Lucia, Valentino Salvatore, Favorevoli 13, Contrari 3, Astenuti 2, 7 Assenti. La proposta quindi è approvata, diamo anche qui l'immediato a eseguibilità, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, va bene? Va bene. Possiamo andare avanti. Quindi come diceva il Consigliere De Luca, di accorpare in un unico punto, con un'unica discussione, i quattro punti successivi, che sono quelli del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quelli votiamo ovviamente singolarmente. Se non ci sono pareri contrari, andiamo avanti. Allora, l'assessore che dovrebbe illustrare è l'assessore Matteo Inissano. Diamo per letto le grazie. Diamo per letto, quindi ci sono interventi. Non ci sono anche, quindi neanche, possiamo proseguire, nessuna dichiarazione di voto, quindi si possono votare singolarmente. Allora, prego. Allora, votiamo il punto numero 5. Riconoscimento, debiti fuori bilancio di quest'articolo 194, primo comma, lettera A, decreto legislativo 267, 2000, sentenza numero 2364, barra 2017, Tribunale di Foggia. Prego. Riccardo Angelo. Balzamo Vincenzo, assente. Pisceglia Rosalia. Campomaria Grazia. Clementi Liana. Assente? Sì, assente. Conoscitore Antonio. Assente. D'Ambrosio Damiano. De Luca Alfredo. Sì. Della Patria Antonietta. Fiore Giovanni. Assente. Giosomino Arturo. Assente. No, 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 è un po' da favore. Ah, scusi, scusi. Scusa. Jacopiello Michele. Però, ecco, dite perché se no io... Per favore, andate il tono della voce. Io qui non sento, eh. Non è un po' di dare per intuizione. Grazie. Jacopiello Michele, sì. La Torre Michele. Assente. Sì. Magno Italo. Assente. Mastro Luca Michela. Ogni Santi Giovanni. Sì. Palumbo Libero. Ritucci Massimiliano. Assente. Romani Cristiano. Assente. Salve Miniangelo. Assente. Taronna Leonardo. Assente. Tomaiuolo Francesco. Tota Romario. Assente. Assente. Trigiani Lucia. Valentino Salvatore. Con voti favorevoli 13, contrari 1. Ok. Quindi l'argomento è approvato. Undici assenti, sì. Potremmo rimediare eseguibilità? Sì, farlo. Allora, votiamo anche qui l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Lo stesso con la votazione precedente. Votiamo ora il riconoscimento, il punto numero 6, riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, primo comma, lettera A, decreto legislativo 267, 2000, sentenza numero 1409 del 2018, Tribunale di Foggia. Riccardo di Angelo, Balzamo, se non vi siete coso sì. Non so nessuno, mi ricordiamo anche velocemente. Per l'alzata di mano. Chi è d'accordo? Allora, favorevoli? Sono con gli stessi dell'altra mano. 13. Chi è contrario? 1. Contrario 1. Chi si astiene? Quindi l'argomento è approvato, votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Uguale. Nessuno. Quindi l'argomento è approvato. Quindi votiamo ancora il punto numero 7, riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194, primo comma, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000, sentenza numero 1452, barra 2018, tribunale di Foggia. Anche questo lo votiamo per l'alzata di mano, visto che nessuno si è mosso. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 1. Chi si astiene? Nessuno. Quindi 13. Ok. Quindi anche qui è approvato. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 1. Chi si astiene? Nessuno. 13. Votiamo ora l'argomento numero 8, riconoscimento debito fuori bilancio ex articolo 194, primo comma, lettera A, decreto legislativo 267 del 2000, sentenza del 124, barra di Manfredone numero 149 del 2018. Chi è d'accordo? Chi è d'accordo? 1. Nessuno astenuto? Quindi l'argomento è approvato. Vediamo anche qui l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 1. Sempre 1. Chi si astiene? Nessuno. Quindi anche questo argomento è approvato. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 9, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 219 del 14-11-2018 di variazione di bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018-2020, provvedimento ai sensi dell'articolo 175,5 del 2. do la parola alla dottoressa, all'assessore Zammarano. Non so se lo diamo per letto. La ratifica, sì. Allora, la delibera di cui all'oggetto riguarda la ratifica della variazione di bilancio ai sensi dell'articolo 42 e 175 del decreto legislativo 267 del 2000. In seguito all'accordo ponte di gestione dei tributi riconosciamo 874 euro di variazione per il pagamento delle spese riconosciute fino al 31-12-2018 alla società di gestione dei tributi. I revisori non si sono espressi a favore perché hanno ritenuto che l'accordo ponte fosse non sufficiente ad avviare questa procedura e d'altra parte hanno anche ritenuto che l'accordo che faceva riferimento a costi dal 1 settembre 2018 e in realtà sia stato poi pubblicato a dicembre 2018. Ciò che già avevamo contestato, questa cosa era già stata contestata perché l'accordo è stato, è vero, firmato successivamente ma a frutto di trattative già iniziate precedentemente. La stessa dirigente distante ha precisato in un verbale dell'organo di revisione in una sua nota il verbale del 27 del 13 dicembre 2018 dell'organo di revisione nella quale ha affermato che al fine di ridurre i costi connessi alla gestione delle entrate e la coggente relazionalizzazione della spesa come da piano di rientro 2017-2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 26-2017 è stata predisposta la delibera di variazione 219 del 14-11-2018 in considerazione dei livelli di spesa all'ordo di IVA. Continua ancora la distante, si precisa che già da settembre la gestione dei tributi ha presentato fatture contenenti i costi di gestione tutti acquisiti al protocollo comunale numero 36.405 dell'11 ottobre 2018 e il protocollo 40.604 del 12 novembre 2018 e il protocollo 45.050 del 10 dicembre 2018. Grazie. Grazie Assessora, apriamo il dibattito, do la parola a chi me la chiede in questo momento che credo sia il Consigliere Ritucci. Prego Consigliere. Sì, grazie Presidente. La cosa che non si evince da questo provvedimento è se da quest'importo, quindi 874.000 euro, è stato già calcolato che dal primo di settembre al 31-12 ci sarà un risparmio rispetto a quel provvedimento Ponte che è stato approvato. Quindi noi a gestione dei tributi riconosceremo i costi dal primo di settembre al 31-12, però fino al primo settembre, quindi fino al 31 agosto, sulla base dell'agio riconosciuto nell'anno 2017. Quindi la domanda torna a essere sempre quella. Visto che ci sarà un risparmio per questi tre mesi, che ricaduta si avrà con questo risparmio sui contribuenti, visto che comunque quando è stata calcolata la tariffa Tari, oltre al piano economico e finanziario, è stato sommato un CARC calcolato sulla base dell'intera discussione del 2017? Questa è una domanda. Poi, ripianate questa ulteriore spesa risparmiando sulla maggior parte dei costi relativa al costo di personale, relativa ai costi di personale, così dice in delibera. E al netto di questa variazione comunque dichiarate che comunque resta in piedi l'equilibrio di bilancio. Un po' quello che ho detto prima. Cioè, in questo provvedimento diciamo che c'è l'equilibrio di bilancio e che i soldi comunque per ripianare questa ulteriore spesa li andiamo a limare nelle altre spese di personale che erano già inserite in bilancio. Però poi se ritorniamo a prendere la nota che ha fatto la dirigente sul provvedimento, allegato al provvedimento del piano di riequilibrio, troviamo praticamente che c'è bisogno di circa 5.133.000 euro, 0,52,67 per il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente dei consiglieri oneri previdenziali per i tre mesi successivi. Cioè andiamo a togliere dalle poste in bilancio delle somme per coprire questa spesa e diciamo che c'è l'equilibrio, però poi la dirigente ci dichiara che ad oggi per le spese di personale ci vogliono almeno altri 5.133.000 euro. Qual è la verità? Delle due, quale è da prendere in considerazione? Secondo me è più la relazione della dirigente che dice che c'è un disequilibrio di 5.133.000, altrimenti cadrebbe anche il presupposto per cui stiamo state chiedendo di fare un piano di riequilibrio. Quindi se è vera quella, di fatto con questa variazione di bilancio si va a gravare ulteriormente sui costi e quindi va a aumentare il disequilibrio del bilancio. Grazie consigliere Ritucci. Deve intervenire qualche altro? Dichiarazioni di voto? Assessore vuole intervenire? Scusa, allora ridò la parola all'assessore per rispondere all'intervento e poi andiamo per dichiarazioni di voto. Per quanto riguarda la spesa del personale, quei 5 milioni di cui parlava la dirigente sono quelli preventivati già fino al 31-12 e quindi sono quelli preventivati che ovviamente però verranno presi dalla cassa, quindi ci sarà un'anticipazione di cassa per questi, ma sono preventivati come per competenza. Comunque c'è un risparmio dovuto a un importo maggiore calcolato sulla spesa dei dipendenti che non è questo, era maggiore, viene su varie voci e questo importo viene utilizzato per questa variazione di bilancio. Riguardo alla ricaduta sui contribuenti, su questa cosa stiamo valutando appunto la situazione e probabilmente attualmente ancora con gestione dei tributi parleremo di questa ricaduta del CARC e quindi di questo agio, di questo risparmio che abbiamo avuto. Grazie. Grazie all'assessora Zammarano, ridò la parola e credo mi ha chiesto di intervenire. No, io in questo momento non ne ho, quindi mi rivolgo a chi? Prego consigliere Ritucci Per dichiarazione di voto ovviamente Sì, poi non mi ha risposto sulla questione il bilancio in equilibrio o meno perché alla fine col dubbio che ho sollevato rispetto alla copertura togliendo soldi dai capitoli di spesa del personale e poi richiamando la delibera, la nota della dirigente dove diceva che c'era un fabbisogno di almeno 5 milioni solo relativo a quella spesa di fatto da una parte diciamo che c'è un equilibrio c'è un equilibrio forse di competenza ma non di cassa ma un bilancio per essere in equilibrio deve essere in equilibrio di competenza e di cassa quindi non è che possiamo dire che di competenza va bene e di cassa no Vabbè, dichiarato la distante però io voglio sapere da voi oggi è lei che sta relazionando qui il provvedimento Abbiamo ad oggi un bilancio in equilibrio? Sì o no? Questa è la domanda L'ho fatta in maniera secca No, io volevo la risposta da lei al microfono Cosa che non c'è stata Tanto voglio dire che siamo abituati nel merito non riusciamo mai ad avere risposte di questo tipo però naturalmente l'idea ce la siamo fatta e ancora una volta emerge che incrociando gli atti deliberativi che fate emergono diverse verità che vanno in contrasto tra di loro c'è una confusione incredibile in bocca al lupo a chi voterà anche questo provvedimento Il voto nostro sarà negativo Grazie consigliere Ritucci Prego consigliere De Luca Un provvedimento che ha visto un appendice finale nel parere o meglio nelle precisazioni venute dalla dottoressa distante che va a chiarire alcuni dei punti sollevati dai revisori in merita tutti tranne il tra virgolette peccato originale Vado a spiegare Si parlava di IVA, non IVA Si spiega che il costo è comprensivo di IVA qui sopra Così come altri aspetti che sono stati tutti quanti spiegati Il tema fondamentale è È illegittimo, non è illegittimo Su questo si è discusso abbondantemente in questi mesi Ora, quello che stiamo andando a fare è una variazione di bilancio Non stiamo andando a riconoscere un debito fuori bilancio e stiamo andando a mettere un'unica posta di bilancio somme che poi dovranno essere verificate se siano legittime o meno In questo momento andiamo solo a porre in un'unica posta di bilancio Per questo motivo ripeto ritengo che sia fattibile e accettabile quindi esprimo il mio voto positivo Grazie Grazie consigliere De Luca Io non ho altri iscritti a parlare Quindi possiamo procedere Consiglieri in aula Consiglieri in aula Succediamo per appello nominato Riccardi Angelo Balzamo Vincenzo assente Biceglia Rosalia no Campo Maria Grazia Clemente Liana assente Conoscitore Antonio assente D'Ambrosio Damiano De Luca Alfredo Della Patria Antonietta Della Patria Antonietta Fiore Giovanni No Giosomino Arturo Non c'è Non c'è Iacoviello Michele La Torre Michele Assente Magno Italo Assente Mastro Luca Michela Ogni Santi Giovanni Palumbo Libero Ritucci Massimiliano Romani Cristiano Assente Salve Mini Angelo Assente Taronna Leonardo Assente No Sì Perché è cambiato posto Chiedo scusa Tomaiulo Francesco Totaro Mario Assente Trigiani Lucia Valentino Salvatore Con voti favorevoli 12 Contrari 4 4 e 9 assenti Mai Votiamo L'argomento è approvato Votiamo l'immediata eseguibilità Che è d'accordo Per la giata di mano Idem Ok Che è contrario Chi si astiene Idem Ok Sono leone 23 5 Il consiglio E' sciolto Io Colgo l'occasione Per augurare a tutti E alle famiglie Di ognuno I più feriti Di auguri Di queste sante festività E l'augurio ancora Di un anno Profibbo Per ognuno di noi Grazie Non è che io sono un caniccolto Ma vediamo anche l'italiano Parlate con il sindaco Ciao 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 Grazie.